ciao a tutti des video ciao a tutti des video un regalo da xx de zorro un regalo da baldo guardiamo a il balletto il balletto maia e sulle mani bello 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 l'equipaggia l'equipaggiamo e volevo dire volevo ringraziare tantissimo jacopo che mi ha regalato la skin che state vedendo che si chiama poi questa skin si chiama pieghino 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 va bene quindi davvero grazie grazie di cuore grazie tantissimo grazie tantissimo e grazie 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 e grazie per il balletto baldo e grazie insomma grazie per la skin grazie tanto per la skin e jacopo grazie 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 tanti sei disturbato troppo jacopo grazie 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 e grazie a tutti quelli che mi stanno facendo regali ultimamente veramente state state esagerando coi regali comunque grazie 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 di cuore ricordatevi sempre di usare il codice di supporto creatore svido super stare quindi andate andate nel negozio oggetti supporto creatore mettete video superstar ecco così di superstar che ogni 15 giorni vuole rifatto va bene va bene direi che possiamo chiudere qua questo piccolo video e grazie ancora jacopo grazie ancora bando grazie a tutti tutti quanti e cc cc ciao